Attenzione, il seguente video è pieno di meme, per concetti e di ironia, visionare al proprio rischio e pericolo. L'autore non si assume alcuna responsabilità, anzi chiede di essere ringraziato per i preziosi consigli dispensati. Siete pronti? In questo video vi spiegherò passo passo come allontanare una ragazza utilizzando il sistema operativo GNU Linux. A volte la battaglia potrebbe rivelarsi più dura del previsto, ma se seguirete per bene le istruzioni di questa guida, riuscirete sicuramente a far scappare qualunque ragazza. Cominciamo! Ne è più probabile dei casi avrete a che fare con una Windowsiana, non ha mai visto Linux, forse usa ancora Windows 8, o forse è più nuovo Windows 10. Alcuni di voi si troveranno di fronte ad un utente di macOS. D'altronde sappiamo tutti che è stata Eva a farsi tentare di cogliere la mela. Per allontanare la ragazza dovete metterla davanti al vostro PC, ma attenzione, seguite bene le istruzioni. Prima regola. Evitare accuratamente interfacce grafiche che risultino comode o attraenti agli occhi di un novizio. Ecco alcuni esempi da acquistare a lontani per vincere la battaglia. Gnome, troppo facile da usare, troppo elegante. KDE Plasma, troppo facile, troppo carino. Cinnamon, troppo facile, troppo simile a Windows. Pantheon, troppo elegante, troppo simile a macOS. Deepin, troppo sexy, e non vorrete mica che la ragazza cada ai vostri piedi. Insomma, non potete sfoggiare ambienti desktop del genere che la ragazza potrebbe apprezzare. Non potete mostrare Cinnamon ad un utente di Windows perché potrebbe non vedere alcuna differenza rispetto a Windows. Non potete mostrare Pantheon ad un utente Mac perché potrebbe sentirsi troppo a suo agio. Ed evitate assolutamente ambienti desktop pensate appositamente per fare sbravare gli utenti. Cosa? Cosa state facendo? State mostrando questi effetti grafici alla ragazza? Finestre che esplodono, che prendono fuoco? Ma come pensate di vincere la battaglia andando disarmati in trincea? Avete ancora tanto da imparare, eh? Ma non vi preoccupate, sono qui per questo. Guardate come esplodono le finestre. Guardate la lampada magica. Guarda come si muove la finestra con la lampada magica. Guarda la finestra tremolante. Guarda addirittura il cubo. Incredibile. Mi sembra già di sentirvi. Maestro, ti preghiamo, illuminaci, indicaci la strada. Cosa usare dunque? Semplice. Bisogna utilizzare un Tiling Windows Manager. Scegliete voi I3, BSPWM, DWM, Herbst Luft, Qtile. Insomma, l'importante è che la ragazza veda un desktop del genere. Quali sono i vantaggi di usare un Tiling Windows Manager? Intanto, nella maggior parte dei casi, la totale assenza di un semplice menu, per cui la ragazza difficilmente sarà in grado di aprire una qualsivoglia applicazione se non le spiegate come farlo. Poi, il minimalismo. Le mancheranno incredibilmente tutte quelle componenti considerate indispensabili su un desktop tradizionale. E ancora, l'interfaccia è guidata da tastiera, non certo dal mouse. Quindi vedrete dei disperati tentativi di muovere il mouse sullo schermo e di cliccare ovunque senza raggiungere alcun tipo di risultato. Ed infine, direi, l'assenza di controlli per massimizzare, minimizzare e chiudere le finestre. Per cui la ragazza si chiederà perché una determinata finestra occupi uno spazio fisso sullo schermo e non c'è modo di cambiare la cosa. In questo modo riuscirete a mandare la ragazza in uno stato confusionale con mille domande a cui non riuscirà a dare una risposta. Penserà che il vostro PC sia rotto e si chiederà come mai il ragazzo a cui mi stavo interessando usa un sistema così rotto? E' forse pazzo? Ed ecco che subentra il panico generale, con conseguente fuga, congratulazioni soldato, missione compiuta. Ma a volte l'avversario che ci troviamo di fronte è duro da sconfiggere e il tiling window manager potrebbe non pastare. Cosa facciamo in questi casi? Non vi preoccupate, ve lo dico io. Chiudete immediatamente il serve grafico X oppure Weyland, dobbiamo passare ad armi ben più potenti. Ebbene sì, abbiamo sempre la vecchia cara console. Quindi aprite una console con schermo assolutamente nero, assolutamente vietato qualunque tipo di colore e un prompt, un minimo user friendly. A quel punto vedrete subentrare il panico più assoluto e noi avremo vinto la nostra battaglia. Passiamo adesso ad un altro punto molto importante. La distribuzione da portare con noi in trincea. Esistono infatti distribuzioni da evitare assolutamente. Si tratta delle distribuzioni solitamente utilizzate da utenti novizi. Parliamo ad esempio di Ubuntu. Troppo facile da usare, troppo normale. Linux Mint. Troppo facile, troppo simile a Windows. Zorin OS. Troppo facile, troppo simile a Windows. Elementary OS. Troppo facile, troppo simile a Mac OS. Mangiaro. Troppo facile. E risento di nuovo la vostra domanda. Maestro, illuminaci. Cosa usare dunque? Beh, scegliete voi. Tra Arch Linux, Linux Gentoo o LFS, Linux From Scratch. Come saprete, ogni utente Linux di sesso maschile possiede una barba, le cui dimensioni dipendono dalla distribuzione utilizzata. Adesso, se siete utenti di Ubuntu, Linux Mint, Mangiaro o di qualunque altra distribuzione adatta a principianti, beh, la vostra barba risulta ancora troppo sexy agli occhi della ragazza che vi trovate di fronte. Quindi, prendete esempio dall'utente Debian. Ma superatelo anche. Anche quella barba potrebbe non essere sufficiente. Io vi consiglio di presentarvi al minimo come utenti di Arch Linux. Ecco la rispettabilissima barba del tipico utente Arch Linux. Lui si presenta in trincea armato del suo bel Kalashnikov e intortola la povera vittima con dei bei discorsi su come sia meglio creare la propria distribuzione personalizzata partendo da una base assolutamente minimale. Da notare anche i suoi discorsi su quanto siano belle le guide sulla wiki di Arch Linux. Se avete seguito fin qui la guida, sarete sicuramente riusciti a spaventare ed allontanare la ragazza in questione. In caso contrario, dovete assolutamente passare al passo successivo, ovvero installare Gentoo. Ecco la barba del tipico utente Gentoo, molto più lunga di lui stesso. Lui si presenta in trincea armato del suo bel bazooka ed intortola la povera vittima con discorsi su come sia bello emergere nel mondo, su come sia meglio installare tutto il software da sorgenti. La vittima verrà presa per sfinimento dopo ore ed ore di compilazione di Firefox. In caso la vittima sia ancora lì presente a fine compilazione, beh forse è da sposare, ma io proverei a rincalare la dose cimentandomi in una compilazione che fallisca miseramente dopo ben 10 ore. E adesso passiamo al prossimo ed ultimo livello, il livello supremo. Ecco a voi il tipico utente di Linux from scratch, livello barba infinito ed oltre. A lui tutti lo evitano perché sanno che è equipaggiato con ben 10 bombe atomiche. L'ultima volta che ha visto un essere umano risale a 10 anni fa. Aveva un cane di nome Pappi, ma anche lui è fuggito. La guida è finalmente giunta al termine. So che mi ringrazierete nei commenti e nel corso di tutta la vostra vita. Soldati, tornate da vincitori!